In vista della legge di stabilità e quindi della manovra economica per la prima volta quest'anno la Lega coinvolgerà tutte le associazioni di categoria produttive, associative e sindacali per preparare una contro legge di stabilità in base a quello che ci verrà richiesto dalle associazioni che rappresentano artigiani, commercianti, imprenditori, agricoltori, pescatori, sindacati. Quindi chiederemo a tutti coloro che rappresentano le loro categorie in Italia, dai tabaccai agli assicuratori ai taxisti alle imprese edili, qual è la loro priorità dal punto di vista economico perché a quanto leggiamo la legge di stabilità che sta preparando il governo Renzi è una serie di bufale che impediranno all'Italia di procedere e di crescere. E quindi non vorremmo arrivarci impreparati e quindi cercheremo di coinvolgere tutta l'Italia che produce da nord a sud per presentare una vera manovra economica finanziaria e non uno spot elettorale per il signor Renzi. Grazie. 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 Grazie.